Vabbè, oddio, a parte, ma poi anche perché un buchillo è completo, cioè se hai buoni perco, un barbie, vai verso i geni, io sto giocando senza perche, eh allora niente Guardalo, hai stinto del pridataru, hanno attenzione il pridataru, hanno ancora il pridataru Oh 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 No dai, mi hanno fatto fare anche la missione, ma mannaggia Pippe che i gormiti che li insinuono al suo inferno. Ai gai! Ma nooo! Ai cicci!